Non solo l'anticipo Frosinone-Pisa, ma anche e soprattutto l'incrocio tra l'Aquila e Lecce. Anzi, a pieno titolo, l'incontro più atteso della diciannovesima giornata di prima divisione. Ulteriore esame di maturità per la formazione salentina, trasformata da brutto anatroccolo delle prime cinque giornate, a Principe del Girone, le cui quotiazioni sono in risalita così come la classifica. Non vuole fermarsi sul più bello la squadra di Lerda, anzi, nel ruolino di marcia fatto in prospettiva, non sono concessi passi falsi, pieni o a metà, per proseguire la rincorsa alle due battistrada. Il Frosinone rischia contro il Pisa, il Perugia nel derby sempre insidioso di Gubbio. E qui non bastano le differenze di classifica per rischiare un pronostico favorevole alla squadra di Camplone, forte di sei vittorie consecutive, anche perché il Gubbio, in caso di successo, potrebbe ravvivare le speranze per un piazzamento play-off. L'ultimo posto al momento è occupato dal Ponte d'Era, che avrà sempre sulla carta l'impegno pioggevole della domenica, ospita una pagarese comunque rinfrancata dal pareggio di sette giorni fa contro il Benevento. Sanniti che devono a loro volta rintuzzare l'assalto del Grosseto, che ha cambiato passo con Cucureddu in panchina, così come deve guardarsi alle spalle il Catanzaro, il cui passo lento delle ultime giornate lo ha di fatto allontanato dalla coppia di testa e riavvicinato non solo all'Aquila, ma anche a Pisa e Lecce. Per evitare di scivolare ulteriormente, i giallorossi devono tenere testa al Prato, che ha mostrato le cose migliori sempre fuori casa. Se Barletta, Ascoli e sfida da Amarcord, quella tra Nocerina e Viareggio è utile solo alle statistiche. I problemi dei campani sono tali e tanti da far passare in secondo piano se e come termineranno questa stagione. Le mancate retrocessioni potrebbero non salvare i rossoneri.